L'unica rotta che il premier senza partito ha seguito è quella che aveva in mente quando nominò nei ministeri chiave otto tecnici senza etichetta e ne lasciò solo uno ciascuno ai quattro maggiori partiti della sua coalizione trasversale. Il fatto che nessuno possa stabilire con certezza se lui sia di destra, di centro o di sinistra è probabilmente il segreto del successo di Mario Draghi, che giusto oggi supera il traguardo dei sei mesi di governo. Fu infatti la sera del 5 febbraio che emerse dalle consultazioni ancora in corso la maggioranza pronta a sostenere il suo governo, tutti partiti a favore, uno solo Fratelli d'Italia contro. Una maggioranza schiacciante 535 voti contro 56 alla Camera e 262 contro 40 al Senato per un governo guidato da un uomo senza partito, un nome che il presidente Sergio Mattarella aveva estratto sapientemente dal suo cilindro. Dopo che Matteo Renzi gli aveva spianato la strada costringendo il riluttantissimo Giuseppe Conte alle dimissioni, dal giorno della sua nomina il 13 febbraio l'ex presidente della BCE ed ex governatore di Banca Italia è andato avanti come un panzer, accontentando e scontentando a turno tutti i partiti della sua maggioranza, senza che nessuno potesse sospettarlo di portare acqua al suo mulino. Per la semplice ragione che il mulino di Draghi non esiste. Ne si può dire che Draghi sia riuscito a superare gli ostacoli dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte, perché l'unica rotta che il premier senza partito ha seguito in questi sei mesi è quella che aveva in mente quando nominò nei ministeri chiave otto tecnici senza etichetta e ne lasciò solo uno ciascuno e quattro maggiori partiti della sua coalizione trasversale. A differenza di quasi tutti i suoi predecessori, che prima trattavano e poi decidevano, l'uomo del whatever it takes prima decide e poi tratta. Riuscendo a convincere tutti a non mettersi di traverso. Ha scelto un generale degli Alpini come commissario per l'emergenza Covid, benché molti storcessero il naso per la sua mimetica, e i risultati gli hanno dato ragione. Sui vaccini oggi l'Italia è davanti alla Germania, alla Francia e agli USA, a febbraio eravamo al 27esimo posto in Europa. Ha nominato l'ambasciatrice Elisabetta Belloni una donna, per la prima volta al vertice dei servizi segreti, e Carlo Fuortes un manager della cultura alla guida della RAI, dopo aver scelto l'outsider Fabrizio Scannapieco ex Banca Italia al vertice della Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, ha dichiarato finita almeno finché ci sarà lui l'era della lottizzazione.